no, non è che ho i pidocchi o le pulci, semplicemente mi grattavo la testa per cercare di capire perché a volte alcune cose sinceramente non le capisco il trend topic post Genua 0 Juventus 3 è il seguente se De Winter non ci avesse messo il braccio e quindi se non avessero fischiato calcio di rigore la Juventus la partita sarebbe finita 0-0 devo continuare a grattarmi in testa perché proprio non riesco a comprendere perché attenzione, non dico che non sia possibile perché è assolutamente possibile non avremo mai una controprova di questa cosa e ragazzi io credo che sia anche un'analisi intanto offensiva ma soprattutto limitata cioè se noi non ci mettiamo qui ad analizzare quello che è stato il primo tempo di Genua Juventus 0-3 e non lo andiamo a etichettare come un primo tempo molle con un giro palla lento con un'errata occupazione degli spazi e non andiamo a confrontarlo con delle mosse dal punto di vista tattico che si sono viste in tutta la partita non ne usciamo più attenzione, non vi sto dicendo che essere 0-0, essere 1-0 non cambi nulla perché abbiamo già visto che questa Juventus finché sullo 0-0 le squadre avversarie difendono a oltranza, bassi, senza lasciare spassi, e si fa fatica sto dicendo qualcosa di diverso, si fa fatica l'abbiamo già detto, l'abbiamo già analizzato, l'abbiamo già sottolineato ma non significa che la Juventus non avrebbe vinto la partita che non sarebbe stata in grado di segnare neanche un gol questa è una possibilità che è diverso da essere la verità anche perché la Juve in quei 90 secondi, inizio secondo tempo ha mostrato delle carte che nel primo non sono praticamente mai state viste non si sono mai viste certe cose una banalità il cambio campo di Nico Gonzalez che va a cercare lui largo dall'altra parte non l'abbiamo mai visto letteralmente mai l'inversione di Danilo e Calulu per permettere a Calulu di spingere e di andare in sovrapposizione su Nico Gonzalez che stringe tanto così come Ildis dall'altra parte ed ecco Rui che va a prendersi l'ampiezza queste sono cose che non possono passare inosservate così come la presenza di Komeners al centro dell'area di rigore molto vicino a Vlaovic perché se noi ragioniamo soltanto per teoremi e per ipotesi che non possiamo nemmeno confermare perché mai avremo una controprova non stiamo facendo una grande analisi stiamo facendo soltanto parziale seguendo quella che è una nostra opinione che è diverso da quello che è la realtà oggettiva di oggettivo abbiamo una sola cosa la Juventus ha fatto tre gol ne poteva fare anche di più si è portata a casa tre punti e rispetto al primo tempo ci sono stati dei cambi che hanno permesso la Juve di andare in vantaggio con l'episodio di rigore sì, ma che fa parte del gioco a meno che non ci sia una regola che dice no, se la squadra avversaria va in vantaggio con rigore è come se non fosse andata in vantaggio quindi l'altra squadra può continuare a difendersi a oltranza avremo tempo per capire se questa è la strada giusta per la Juve se ora con il 4-2-3-1 più puro con meners centrali i terzeni che spengono Ildis e Nico Gonzalez che stringono di più e lascia l'ampiezza per i difensori che sono liberi di salire avrà comunque difficoltà contro le difese chiuse ci sono non so quanti altri mesi di stagione tipo 8, 9, 10, una roba del genere sapete quante partite ci saranno? ancora una quarantina per lo meno per quanto si sia arrivati comunque già a una buona fetta di campionato siamo a un terzo del girone d'andata per 3 per 6 fa 18 siamo lì, l'intorno quindi avremo tempo per capirlo ma sentire che senza il Mike Vinter la Juventus non avrebbe vinto beh ragazzi il fallo di Vinter che è un fallo da rigore nettissimo avviene avvenuto 47 se poi siamo convinti che la Juventus mai avrebbe potuto sbloccare la partita mi piacerebbe avere le vostre certezze anzi consigliatemi anche un po' di risultati così magari vado a farmi delle schede e mi porto a casa qualche soldo non era mai successo nella storia della Juventus di fare le prime sei partite di campionato senza subire gol voglio puntare un carico su questa affermazione l'ultimo gol subito dalla Juventus in Serie A sapete che ce l'ha segnato sapete la squadra che ce l'ha segnato sapete da chi era allenata la squadra che ha segnato l'ultimo gol in Serie A la Juventus è Tiago Motta Tiago Motta Bologna Juve 3 a 3 l'ultima partita di Scesni con la Juve tre gol subiti dalla Juve tre gol segnati dal Bologna di Tiago la prima di Montero la prima e unica in trasferta l'ultima di Tiago Motta al Dallara questo è Tiago Motta ha blindato la Juve dopo aver sfondato la Juve possiamo dirla così ed è assolutamente vera è assolutamente coerente ma la cosa bella non è solo non subire gol perché quello è meraviglioso io ve l'ho sempre detto a me piace non subire gol a maggior ragione quando tu riesci a non subire gol ma allo stesso tempo riesci a mantenere la voglia di farlo traduco per quanto la Juventus sia andata in vantaggio e quindi abbia cambiato i piani del Genoa che non era più costretto soltanto a difendersi ma aveva necessità anche di cercare un gol per andare almeno a pareggiare la partita eccetera eccetera e poi senza il mani di Vinter la Juventus non avrebbe segnato ok ma la Juve che va 1-0 è una Juve che per la sesta volta in Serie A peccato per quel gol subito a tempo scuduto in Champions se no avremmo potuto dire 7 su 7 veramente la Juve ha subito un solo gol in stagione fino ad adesso all'ultimo secondo in Champions League in una partita che stava vincendo 3-0 un attimo di disattenzione ma lasciamolo lì la cosa più bella è che tu segni 1-0 e non è che dici bene 1-0 merda che fatica avevo fatto a fare sto gol aspetta un attimo che prendo tutto il baricentro e lo abbasso di 20 metri e vado a difendere la mia porta ma no ma neanche per sbaglio il ragionamento è 1-0 ah attenzione se abbiamo fatto fatica ora magari facciamo meno fatica ad attaccare perché gli avversari avranno la necessità di sbilanciarsi allora sai cosa facciamo? non cambia esattamente niente se prima facciavamo fatica ma ci provavamo a fare gol ora che siamo in vantaggio oh faremo fatica ne faremo di meno ne faremo di più non lo sappiamo ma noi andiamo a fare il secondo senza chiuderci perché se questa Juventus funziona questa Juventus per la prima volta nella storia dopo 6 partite di Serie A non ha mai subito gol quindi sono 7 partite di fila della Juventus in Serie A senza subire gol perché Juventus Monza l'ultima di Montero l'anno scorso la Juventus non ha subito gol ha vinto per 2-0 significa che la Juventus di Agomotta sta funzionando soprattutto dal punto di vista del pressing offensivo Tiago Motta l'ha già ribadito più volte Vlaovic è il nostro primo difensore ma non è una frase fatta perché se la Juve riesce a smorzare le possibilità di attacco degli avversari è perché parte dall'attaccante come è normale che sia in una squadra di calcio la fase difensiva di non possesso palla che va a orientare la pressione in determinati punti per cercare di mettere in difficoltà gli avversari si passa poi al centrocampo che spesso e volentieri va a breccare gli avversari e tante volte se si recupera palla si cerca la ripartenza il contropiede chiamiamolo come volete la ripartenza lo contropiede come volete però se brecchi al centrocampo cerchi di andare in avanti salta anche il centrocampo abbiamo visto degli interventi importantissimi da parte dei difensori e se anche i difensori alla fine dicono ok non ce la stiamo facendo ecco che di Gregorio grandissima parata contro il Napoli su quel cross di Politano punizione al minuto 45 più recupero dal primo tempo grandissima parata di Gregorio e oggi su una delle poche e rare unica direi grande occasione per il Genoa al di là di tiri da centrocampo o dalla trequarti veramente innocui e centrali cioè quella gran parata di Perin su Pinamonte quindi in questo momento dal punto di vista difensivo la Juventus che ha raggiunto un record incredibile per la storia ce la farei complimenti a tutti partendo la Tiago Motta arrivando a Blaovic passando i centrocampisti arrivando i difensori e poi lodando pure i portieri quindi questa secondo me è la cosa bella da discutere oggi questa è la cosa migliore che un tifoso della Juventus dovrebbe discutere oggi non dire cazzo che brutto primo tempo meno male che c'è un altro rigore se no ancora la pareggiavamo perché sarebbe veramente un'analisi miope di una stagione che per tanti è già stata etichettata come fallimentare o per tanti la Juve ha fatto tre pareggi per 0-0 di fila fa schifo fa schifo poco importa se in questo preciso istante ha un punto in più dell'Inter che ha giocato le stesse partite è in testa la Serie A almeno per una notte ha segnato un record storico per quanto riguarda la difesa ha segnato tre gole a Genoa in trasferta e mi piacerebbe aprire la almanacqua e vedere l'ultima volta che è accaduta questa cosa senza subirne per tanti la Juve fa schifo la Juve ha un potenziale incredibile ragazzi e mi dispiace che tanti non se ne stiano accorgendo mi dispiace che tanti Juventini non se ne stiano accorgendo perché hanno già deciso in partenza a priori che Tiacomotto è scarso che questa Juve farà schifo e che non si sta segnando mi dispiace tanto davvero perché questa è una stagione di rinascita di ricostruzione di ripartenza non ho idea di dove si arriverà ma se posso darvi un consiglio uno e uno solo gustatevi il viaggio poi quello che arriverà lo vedremo ma gustatevi il viaggio perché ne varrà la pena ciao a tutti e buona domenica